Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ci stiamo dirigendo verso le Terme di Verona E' una bomba qua dentro, praticamente col braccialetto possiamo prendere i drink Ah, un'altra figata di questo posto che fanno vedere la gara di Formula 1 Dentro la piscina Come vedete ragazzi, vedete le meli di sale, è una palestra veramente di sale Grazie a tutti Grazie a tutti